Cari amici, siamo a Samozzo del Grappa, precisamente all'antica abbastia, dove partirà e arriverà il Trail degli Eroi. Oggi vi accompagneremo a visionare i punti più caratteristici di questi 46 chilometri. Dopo il primo chilometro e mezzo sulla strada asfaltata si invoca questo sterrato e tra qualche centinaio di metri a destra si prenderà il sentiero numero 100, single track. Adesso troviamo il primo ristoro e dopo di che inizierà una parte di salita abbastanza ripida per portarci sopra la vegetazione, quindi sulle creste del grappa. Qui siamo a quota 1.400 circa, siamo a circa 300 metri dalla vetta e è il punto dove si inizia a vedere il sacrario di cima grappa. Siamo quasi in cima al Montagrappa e stiamo entrando nel sacrario militare. Qui ho richiesto dagli atleti, soprattutto dagli accompagnatori, il massimo rispetto del silenzio. Siamo arrivati nel punto dove è apposta la prima montagna, in cui è il secondo ristoro della gara. Qui siamo al termine della discesa dal Col Berretta, ci stiamo avvicinando al terzo ristoro, quello di Finastron, dal quale poi partirà un continuo saliscendi verso i Colli Alchi, per avvicinarci al Col Campeggia dove ci sono le trincee ed inizierà l'ultima discesa. Stiamo andando verso il campo Solania, ormai il giusnivello è fatto quasi tutto, c'è solo una piccola salita con il Campeggia e poi l'ultima discesa. Abbiamo appena passato dalle trincee di Col Campeggia, adesso mancano circa 5 km dalla fine di discesa. I primi due costanti tecnici su un sentiero singoltrack e poi gli ultimi invece da fargivare le gambe e correr forte. Siamo ormai a 200 metri dall'arrivo, ormai il percorso che conoscete, lo avete visto, quindi non vi restate con dire correrla.